Grazie a tutti Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e questo è il video ragazzi del vincitore della sfida, della challenge che ho lanciato qualche giorno fa su COD ragazzi il vincitore come avete letto è Orango Tango Mod, non vi dico il punteggio finale quindi rimanete fino alla fine del video per vedere questo mostro di Orango Tango che cosa ha realizzato ragazzi detto questo vi ricordo di iscrivervi al canale se avete bisogno di un account modato o altro ancora basterà guardare sul suo canale o contattarlo su Facebook e che altro dire ragazzi guardate il video di questo mostro, vi lascio un saluto a tutti e al prossimo video, ciao a tutti Now I'm here, so shut your motherfucking mouth Grazie a tutti 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 Grazie a tutti